Stavolta la lezione sarà lunga un po' più di un'ora, andremo fino alla fine del tempo che c'è concesso perché dobbiamo fare una formula che si chiama formula di tempo, è un po' più lunga del solito. Prima però dobbiamo dire qualcosa, dobbiamo dare le definizioni che si servono. Allora vi ricordo che se stiamo su un intervallo, per esempio lo prendo più AB. Ti è C0 di AB, è uguale all'inizio delle definizioni da AB a valori in R, continue in AB, cioè in ogni punto di avvento. Similmente chi è C1 di AB? Sempre questa è una definizione, insieme delle funzioni da AB a valori in R, tali che F' è continua in AB. A e così via. Qua potrei anche aggiungere ed F continua in AB, che è vero pure questo. però in realtà affinché F sia continuo in AB, basta l'esistenza della derivata, perché se vi ricordate se è una funzione del derivato, B è anche continua. Quindi questo è automatico, nel momento in cui esiste F, F' è automatico che F esiste e continua. Certo, è automatico che F è continua. Quello che non è scontato è che la derivata sia continua. F. Facciamo un esempio. Esempio. Prendete questa funzione qui, F di X uguale 0 se X è uguale a 0, ma X quadro per seno di 1 su X, se X è diverso da qua. Qua ci potete mettere seno, coseno, va bene qua. Adesso questa funzione qua, come si fa la derivata? Allora, fuori di 0, X sta in un aperto, in R meno 0. Quindi si può derivare usando le usuali fori. Quindi posso fare 2X seno di 1 su X, poi meno X quadro per coseno di 1 su X, per 1 su X. per la derivata di 1 su X che fa meno 1 su X quadro. La derivata di X alla meno 1 è meno 1 X alla meno 1, se vi ricordate. La derivata di X alla alfa, no, è la alfa per X alla alfa meno 1. 1 su X che è X alla meno 1. La derivata di X alla meno 1 è meno 1 per X alla meno 1. Ovviamente qua, 1 su X quadro per X quadro si può semplificare. Allora, state attenti che adesso la derivata in 0, questo per X diverso da 0, fa 0. Ma non perché la derivata di 0 fa 0. Fa 0 perché, come si fa la derivata in 0? F primo di 0, siccome qui la definizione è definita a pezzi, proprio vicino a 0, bisogna ricorrere alla definizione derivata. Allora, come si fa? Si deve fare il limite per X che tende a 0 di la funzione in X, cioè X quadro seno di 1 su X, meno la funzione in 0 che vale 0, fratto X meno 0. Per il rapporto interno. Ma meno 0 e meno 0 si può togliere, X quadro si può semplificare con una X, qua mi rimane il limite per X che tende a 0 di X seno di 1 su X. Questo limite fa 0 perché, allora, per X che tende a 0, se io di 1 su X rimane compreso da meno 1 e 1, X invece tende a 0, 0 per una quantità limitante tende a 0. Ok? Quindi questa qua la dovete calcolare a mano, cioè tutte le volte che avete una funzione che in un punto è definita a parte, lì, se ci volete andare a calcolare la derivata, dovete andare a scrivere il limite del rapporto incrementale, non è che dire qua faccio la derivata di questa e qua faccio la derivata di 0, no. Allora, se qua ci aggiungo X, qua la derivata si aggiunge 1 e qua la derivata se andrà a calcolare fa 1, non fa 0, perché ci ho aggiunto X. E' chiaro? Ok. Beh, però, che cosa succede? Che se io adesso vado a fare il limite e X che tende a 0 di F' di X, questo limite quanto fa? Questo pezzo fa 0. E questo pezzo non ce l'hai. Il coseno di 1 su X vicino a 0 è uscita sempre di più, rimanendo compreso da meno 1 e 1, ma non ha il limite. Quindi, questo esempio, questo limite non c'è. E non ci poteva essere. Perchè se esistesse questo limite dovrebbe essere uguale a derivata di... Quindi, diciamo, questo limite non... Mi spiego meglio. Quello che volevo dire era questo. Io non potrò mai avere, cioè se la funzione ha una discontinuita F' Questo che vuol dire? Che F' è discontinuita in 0. Il limite non esiste, invece quello che è in 0 è in 0. La discontinuità che una funzione derivata può avere in un punto è sempre di tipo essenziale. Per quale motivo? Le discontinuità erano date da discontinuità assalto, no? Discontuità eliminabili e discontinuità essenziale. Ok? Una funzione derivata non può avere discontinuità assalto. Perchè è facile dimostrare, non lo sto a fare qui, che se esiste il limite della derivata è uguale alla derivata nel punto. Questo vale anche per la derivata da sinistra e destra. Allora se io faccio il limite delle derivate da destra mi fa 7 e il limite della derivata da sinistra mi fa 5, che vuol dire? La derivata da destra vale 7, la derivata da sinistra vale 5 e la derivata del punto è giusto. Se invece il limite della derivata mi fa 7, la derivata nel punto mi deve fare 7. Quindi nel momento in cui qua ho la derivata ma la funzione è discontinua, l'unica possibilità è che la linea della derivata non esiste. Perchè se esistesse dovrebbe fare 6. Però questo è dovuto al fatto che ho enunciato ma non l'ho dimostrato. Però a noi ci interessa questo esempio qua, perchè questo esempio qua prova che non tutte le funzioni derivabili sono C1. Cioè quando io vado a chiedere che una funzione sia C1 non è automatico all'uno. Se io ho la funzione è continua non è detto che sia derivabile. Esempio è una funzione parola assoluta. Se ho una funzione che è derivabile è sicuro che è continua. Ma non è sicuro che la derivata sia continua. Esempio è quella funzione della. Questa qua è derivabile in tutti i punti, anche in 0. Ma la derivata non è continua. Poi posso avere una funzione C1 che però la derivata prima non è a sua volta derivata. Poi posso avere una funzione con due derivate. Con la derivata seconda. Quella funzione sarà sicuramente C1. Perchè se ci sta la derivata seconda ci sta anche la derivata prima. E la derivata prima deve essere continua. Perchè la derivata prima è derivabile. Però non è detto che la derivata seconda a sua volta sia continua. E così via. Quindi io chiamo CK di AB. Per definizione chi chiamo? L'insieme delle funzioni definite su AB a valori in R. tale che esiste la derivata alchesima di F per ogni H compreso tra 0 e K. E tale che la derivata alchesima di F è continua. ma specifico solo che l'ultima derivata deve essere continua. Perchè le altre automatici. Sono derivabili. Quindi. Chi è lo spazio delle funzioni CK? Lo spazio delle funzioni CK sono lo spazio delle funzioni derivabili fino alla derivata K inclusa. E tale che tutte le derivate risultino essere continue. Chiaro? 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 secondo voi chi è più grande C3 di AB o C1 di AB chi è più grande C1 è ovvio che è così in realtà posso dimostrare che sono diversi posso prendere una funzione che sta qui prendete la funzione x quadro per segno di x la derivata è 2 valore assurdo di x la derivata è continua è una funzione che è successiva però la derivata non è derivata non esiste la derivata seconda meno quindi è chiaro che il mano a mano il quadrogrammato K CK di AB è contenuto in CH di AB ogni volta che K è maggiore o uguale qua ci metto anche uguale perché se K è uguale a H se K è maggiore di H secondo spazio però può capitare prendiamo per esempio la funzione E alla x E C1 sì E C2 sì perché la derivata seconda chi è? sempre la x E C100 arrivata non cambiamo un altro esempio di una funzione sul quale non ho problema a dire che sta in CK per ogni caso la funzione seno la derivata di seno è coseno E continua sì quindi è C2 la derivata di coseno è meno seno E continua sì è C2 la derivata di meno seno è meno coseno E continua sì è C3 la derivata di meno coseno è seno E quindi è continua sì è C4 è C5 è C6 è C7 allora quando una funzione è CK per ogni K gli diamo un nome particolare cioè noi chiamiamo C infinito che è è l'intersezione K appartenente ad M di CK C0 intersecato a C1 intersecato a C2 intersecato a C3 uno potrebbe dire questi si ridurrano quindi alla fine l'intersezione non ci rimane niente no, non è vero abbiamo appena visto che ci sta E alla X e C infinito seno di X e C infinito seno di X e C infinito allora vediamo un po' se avete capito il polinomio X cubo più X più 1 allora X cubo più X più 1 allora la derivata fa 3X quadro più 1 la derivata seconda 6X la derivata terza 6 la derivata quarta fa 0 la funzione è C4 sì o no? sì E C5 mozzico in destra la derivata di 0 quanto fa? C infinito pure quello non ho capito perché quando arriva a 0 no poi 0 basta basta che non devi più diciamo fare fatica per derivare ma alla derivata c'è stato è chiaro? quindi per esempio tutti i polinomi sono C infiniti tutte le funzioni razionali sono C infinito da qualche parte ovviamente il loro dominio no? dove il denominato è diverso da 0 e così le funzioni C infinito ce ne stanno tante se non praticamente se voi andate a ripescare tutte quelle funzioni che abbiamo studiato nei grafici elementari si può vedere che tutte le funzioni sono C infinito da qualche parte per esempio la funzione arcoseno è continuo e meno 1 1 chiuso ma è C1 e meno 1 1 aperto perché le derivate sugli estremi non ci stanno e poi una volta che avete la derivata la prima volta e ottenete la derivata 1 fratto la radice di 1 meno 4 la derivata potete farle la seconda la terza la quarta volta facciamo questo esempio proviamo a fare le derivate della funzione arcosena fa f di x il quale è arcosena di x questa è in meno 1 1 chiuso ed è C0 di meno 1 1 la derivata quanto fa? lo ricordate? fa 1 fratto la radice di 1 e di sguardo e questa però è in meno 1 1 aperto perché in 1 e meno 1 viene 1 su 0 e si può fare quindi questa funzione è C con 0 C con 1 meno 1 1 aperto ma però se voglio fare la derivata seconda adesso lo posso fare quanto fa? allora questa qua F' me la riscrivo come 1 meno x quadro alla meno 1 mezzo quindi chi è? la derivata per la regola di rinnovazione di rinnovazione composta qua viene meno 1 mezzo per 1 meno x quadro alla meno 3 mezzi per meno 2 x che è la derivata di 1 x quadro quindi mi viene 2 e 2 si semplifica meno e meno si semplifica poi mi viene x fratto radice di 1 meno x quadro elevato a oppure se preferite 1 meno x quadro elevato a 3 mezzi adesso secondo voi ci sono problemi a continuare la derivata? ci sono problemi nel continuare la derivata? io direi che non c'è nessun tipo di problema perché è chiaro che stavolta questo è un rapporto di due funzioni però si fa il quadrato in ogni caso il denominatore rimarrà una potenza di questo che in meno 1 o 1 aperto si può sempre definire per sempre diversa quindi sopra compariranno dei 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 ok quindi cosa possiamo dire? possiamo dire che questa funzione è c infinito di meno 1 1 aperto quindi è di classe c infinito sull'intervallo meno 1 aperto però non chiuso perché sugli estremi la funzione è continua ma non è quindi abbiamo capito quali sono queste classi c1 c2 c3 c4 c5 la più piccola ovviamente è la classe c1 che non è vuota ci sono un sacco di funzioni che è c4 questa è la remessa c5 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 c6 c9 c5 c5 c6 c6 c5 c6 c6 c5 adesso la formula di Taylor mi dice la cosa seguente prendiamo una funzione f definita su un intervallo a b a valori in r e prendiamo x con 0 appartenente da b potete prendere anche definita sull'intervallo più l'importante è che x con 0 sia nella parte interna per comodità possiamo parlare anche sugli estremi soltanto che per semplicità ci mettiamo nell'interno se no dobbiamo scrivere le cose poi supponiamo che f sia di classe ck allora supponiamo che sia di classe cn meno 1 su ab poi supponiamo che esista la derivata ennesima questo simbolo indica la derivata ennesima la derivata ennesima della f la indichiamo in genere o così o così o così o così o così questa è la derivata ennesima un'altra ora questo deve esistere nel punto di se con 0 quando scrivo derivata zeresima di f questa non è altro che la f cioè la f derivata 0 volte è la f quindi io siccome ho la derivata prima, seconda, terza e quattro ci devo mettere un simbolo per indicare la derivata settima ma no allora la derivata settima sarà qua ci metto sette oppure qua ci metto sette oppure qua ci metto sette qua ci devo mettere parentesi perché sennò sembra f elevato alla sette chiaro prima qui? allora quindi fatemi scrivere qua il titolo formula di verità ok quindi noi sappiamo che la funzione è derivabile n-1 volte con condività in AB ed è derivabile una volta in più nel punto di esponzione allora esiste un unico polinomio V di x tale che V di x sarà fatto in questo modo sarà la somma per h che va da 0 fino ad n della derivata ennesica a che scusate di f carvolato in x con 0 fra h fattoriale per x alla n tale che la mia f di x si scrive come il polinomio non calcolato in x ma calcolato in x meno x con 0 più o piccolo di x meno x alla n questo qua si chiama polinomio di t e la f e la f e la f nel punto di esponzione se inoltre esiste diciamo f appartiene a c con n più 1 di ab allora esiste x per ogni x appartenente ad ab esiste x tale che x sia minore di x minore di x f x sia uguale a questo stavolta lo scrivo esplicitamente la somma per h che va da 0 a n della derivata achiesima della f calcolata di x con 0 fratto h fattoriale per x meno x con 0 alla h più la derivata n più unesima della f calcolata di xi fratto n più 1 fattoriale per x meno x con 0 questo qua si chiama resto in forma di piano questo qua si chiama resto in forma di lagrangio chiaro? allora cosa mi dice? allora prima di o qua in realtà anche c n più 1 si può indebolire perchè serve solo che esista la derivata n più unesima c con n più la derivata n più unesima però ho preso brevità ho scritto c con n più se c con n più 1 sicuramente ci sta la derivata n qua invece mi sono mantenuto con le ipotesi pelo pelo cioè la funzione è derivabile n meno 1 volta e derivabile un'ennesima volta solo nel punto y questo basta per scrivere la formula corretto di luci allora vediamo un po' prima di fare la dimostrazione andiamo a scrivere fare un esempio di formula la formula di teelo che è la x con x con 0 uguale 1 allora come si scrive? mettiamo n uguale 4 allora devo fare e alla x uguale allora devo fare, devo scrivere quel polinomio fino a 4 quindi devo scrivere la derivata zeresima di e alla x calcolata in 1 fratto 0 fattoriale e basta perchè x meno 1 elevato alla 0 più la derivata prima di allora prendo e alla x uguale f poi devo mettere la derivata zeresima di f uguale la derivata prima di f calcolata in 1 per x meno 1 più la derivata seconda di f sempre in 1 mezzi perchè c'è 2 fattoriale per x meno 1 quadro più la derivata in 1 più la derivata terza in 1 sesti per x meno 1 a 4 più la derivata quarta in 1 su 24 per x meno 1 alla quarta più adesso posso scegliere siccome la funzione è c'è infinito posso scegliere sia la forma di peano cioè posso scrivere o piccolo di x meno 1 alla quarta oppure invece di scrivere questo posso più precisamente scrivere più la derivata quinta calcolata in xi stavolta fratto 120 per x meno 1 alla quarta dove xi è un punto compreso da x con 0 a x o tra x e x con 0 se stiamo dall'altra allora se voglio esplicitare questa formula cosa devo fare? qua è molto semplice perchè la derivata di alla x è sempre di alla x quindi posso riscrivere la formula come e alla x uguale e alla 1 che fa e più la derivata che fa sempre di alla x calcolato in 1 viene sempre e mi viene e per 1 più x meno 1 più x meno 1 più x meno 1 quadri mezzi più x meno 1 più x meno 1 quadri mezzi più x meno 1 più x meno 1 alla quarta su 24 più e alla xi fratto 120 per x meno 1 alla quinta ovviamente questa quantità per x che tende a 1 è un infinitesimo qual è l'infinitesimo di riferimento per x che tende a 1? x meno 1 questo infinitesimo di riferimento per x che tende a 1? x meno 1 questo infinitesimo è di ordine 5 che è di ordine superiore a 4 infatti qua che è di ordine superiore a 4 prima di scrivere ciò ho scritto o piccolo di x meno 1 alla quinta questo è un esempio di formula di Taylor a le scriviamo sempre per la funzione esponenziale le scriviamo la formula di Taylor nel caso x con 0 uguale 0 ed n uguale 3 in questo caso abbiamo e alla x uguale e alla 0 fa 1 in tre derivati successivi faremo pure 1 più x più x quadro mezzi più x puro sesti più e alla xi fratto 24 per x alla 4 qua abbiamo x meno 1 e meno x qua abbiamo x meno 1 e meno x qua abbiamo x meno 1 e meno x quindi perchè vi ho scritto queste due formule? perchè la formula di Taylor la prima capita allora qua mi sta dando qua fatemelo scrivere o piccolo di x punto invece di questo invece di questo allora vicino a 0 si capisce molto bene io ho il valore no perchè è alla 0 fa 1 poi ho la prima collezione x la seconda collezione è un'ipidesi di ordini superiori x quadro mezzi la terza collezione è x più x la quarta collezione è di ordini superiori x l'ultima collezione oppure posso andare avanti quindi posso dire che tolti questi la funzione è di ordini superiori infinitesi di ordini questi e non questi effettivamente perchè la funzione in realtà è di classe c'è infinito quindi potrei continuare se lo faccio invece in 1 la funzione deve essere e deve cominciare con e perchè la funzione in 1 vale e cioè l'errore più comune che fate è applicare in 0 applicare in punti diversi da 0 la funzione di Taylor in 0 cioè lo sviluppo di Taylor in 0 quello di Taylor in 0 si chiama sviluppo di McLaren questo è lo sviluppo di McLaren qui in ordine nel punto 1 non posso usare questo nel punto 1 la funzione è e la mia correzione è e per x più 1 quadro mezzo chiaro? perchè la funzione è fatta con un modo da vicino a 1 è fatta con quell'altro modo da quando voglio ulteriori correzioni correzioni però piccole rispetto a che? quali correzioni sono piccole rispetto a x x meno 1 alla quarta, alla quinta, alla seconda dell'orbita ok? in generale questi numeri che vanno qua davanti sono la funzione del punto la derivata della funzione del punto fratto 1 la derivata della funzione del punto fratto 2 fattoriale la derivata della terza fratto 3 fattoriale ok? poi c'è lo spostamento del punto dal punto elevato alla 1 alla 2 alla 3 alla 4 così via e poi c'è la resta chiaro? ok ora rimane che la troviamo un attimo per mostrare allora mandiamo in alto la lavagna con l'enunciato ok cancelliamo mandiamo al basso e cominciamo la dimostrazione qua allora per prima cosa prima cosa prima cosa unicità del poliname di vedete quando dico che esiste un unico polinomio di grado n qua non so se l'ho detto ma va a specificarlo di grado n perchè ovviamente quando io porto la formula più avanti questo polinomio si specifica con ulteriori termini quindi in realtà ce ne stanno più di uno però se lo voglio di grado 5 e voglio la formula fino a n uguale a 5 i polinomi che fanno questo senso qua resta uno solo allora supponiamo per assurdo che esiste due polinomi quindi p di x uguale somma per h che va da 0 a n di a con h per x all'alta e u di x somma per h che va da 0 a n di b con a per x all'alta tali che tali che distinti diversi tali che f di x sia uguale a p di x meno x con z più più di x meno x con 0 alla n ed f di x sia anche uguale a q di x meno x con 0 più u di x meno x con 0 alla n sia sia j con 0 uguale sia h 0 il minimo dell'edizione degli h tali che a con h è diversa da qui con h allora noi sappiamo che i due polinami sono diversi quindi qualche coefficiente dovrà essere diverso chiamiamo h 0 il grado più basso per cui abbiamo il coefficiente di per esempio potrebbe essere anche 0 sia con 0 diverso a b con 0 h 0 uguale a 0 sia sia con 0 uguale a b con 0 ma con 1 diverso a b con 1 h 0 uguale a 1 è così allora questa relazione la chiamiamo asterisco da asterisco segue facendo la differenza membro al membro questo segue che 0 è uguale a b di x meno x con 0 meno q di x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0 alla n vi ricordo che un'infidesica di ordine superiore alla n meno un'infidesica di ordine superiore alla n cioè 0 uguale a somma per h che va da 0 fino a n è uguale a di a con h meno b con a per x meno x con 0 alla h più o piccolo di x meno x con 0 alla n ma questa quantità qua prima di x con 0 a con h e b con h sono uguali quindi si evitano prima di h 0 prima di h 0 ad h 0 sono diversi quindi il primo termine diverso sarà h a h 0 meno b h 0 per x meno x con 0 alla h 0 più tutti gli altri termini sono di ordine superiore ad h quindi posso scrivere quindi posso scrivere o piccolo di x meno h 0 quindi x con 0 alla h 0 ricordatevi che questo termine è diverso da 0 adesso dividete per x meno x con 0 alla h 0 ottengo 0 uguale a con h 0 meno b con h 0 che è un numero diverso da 0 più o piccolo di x meno x con 0 o piccolo di 1 perché quando divido questo ottengo comunque un infinitesimo per definizione e quello è un infinitesimo di ordine superiore adesso quando faccio tendere x a x con 0 ottengo che questo tende a 0 questo vale 0 ma questo tende ad h 0 meno b h 0 che è diverso da 0 e questo è un assurdo perché quella quantità se vale 0 deve tendere a 0 chiaro? cioè una funzione se c'è uno sviluppo di 0 quello è non ce ne può avere due diversi con i coefficienti diversi fino all'ordine s perché se ce ne avesse due diversi vorrebbe dire che quando vado a fare la differenza 0 0 non può essere un infinitesimo di ordine sette 5 3 0 deve essere un infinitesimo di ordine 7,5 o 3 cioè quando andiamo a fare la differenza tutti questi termini si devono tutti quanti elitere, deve rimanere soltanto tutti questi termini qua, deve rimanere soltanto piccolo di x base con 0 alla m, questo va bene, perché 0 è un infinitesimo di ordine superiore alla m per ogni m. Se uno di questi termini non si elitere, per esempio quello di grado più basso è di grado h0, vorrebbe dire che 0 sarebbe un infinitesimo di ordine h0, e questo non è così. 0 non è un infinitesimo di ordine 3, di ordine 2, di ordine 5, non può essere. Perché? Perché se dividiamo per quella potenza di x base con 0, rimanerebbe una costante diversa da 0, uguale a 0, più perturbazioni che sono infinitesimo, quindi quando vado a 0 le perturbazioni spariscono, mi rimanerebbe un numero diverso da 0, uguale a 0. Ok, adesso, andiamo a fare il resto della dimostrazione. Quindi dobbiamo vedere, sostanzialmente, cosa dobbiamo vedere? Che le formule funzionano, cioè noi abbiamo detto che la formula se esiste è unica, no? Ma, se esiste, noi abbiamo detto che deve avere questi coefficienti qua, e deve valere questa identità qua, oppure questa identità qua, allora si tratta semplicemente di andare a far vedere che quelle due identità funzionano. Chiaro? Ok, allora per andare a vedere questo, vado a ricancellare la parte sulla dimostrazione dell'unicità, e andiamo a vedere che, Allora, andiamo a usare una funzione phi ausiliaria. Phi non è altro che il polinomio di Chelo, calcolato in x meno x con 0, tranne il primo termine. Quindi, phi non è altro che la somma per h che va da 1 a n di derivata a nesima, derivata a chesima di f, calcolata in x con 0, fra h fattori a, per x meno x con 0, alla h. Allora, questa funzione qui, se andiamo a fare la derivata, di phi, diciamo, cominciamo a fare la derivata prima, facciamo tutti i partiti. Allora, chi è la derivata prima? La somma per h che va da 1 a n, della derivata h meno unesima di f in x con 0, fratto h fattoriale, fa della derivata a chesima, questo è un numero, non si muove, però questo si muove, faccio h per h per x meno x con 0, alla h meno 1, uguale a somma per h che va da 1 a n, della derivata a n, della derivata a chesima di f in x con 0, per x meno x con 0, alla h meno 1, fratto h meno 1, fattoriale, cioè, che succede che qua e qua h scende. in particolare, f primo calcolato nel punto x con 0, quanto fa, a me interessa, x meno x con 0 fa 0, tranne quando h uguale a 1, perché se h uguale a 1, alla 0 per definizione fa 1, 0 fattoriale fa 1, quindi qua mi rimane, f primo calcolato, proviamo a fare la derivata r volte, della fi nel punto x, questa chi è? Non è altro che la somma per h che va da r fino a n, della derivata a chesima della f, x con 0, fratto h meno r, fattoriale, per x meno x con 0, alla h meno r, cioè, ogni volta che derivi, scende un 1, derivi una volta h meno 1, derivi due volte h meno 2, deriva r volte h meno r, però, attenzione, si parte solo da r in poi, perché da r in poi, perché da r in poi questo è almeno 0, perché sotto 0 non ci guardiamo, perché quando si è derivata la costante, la derivata della costante poi si annulla. Quindi, se adesso vado a calcolare la derivata di r, di f di fi, è resima del punto x con 0, allora, qua cosa mi viene? x meno x con 0, fa sempre 0, x con 0, x con 0, fa sempre 0, tranne quando h è uguale a r, fa 1, quindi mi viene uguale alla derivata r, quindi questo per r, che va da 1, che va da 1, fino a l meno 1, questo lo posso sempre fare, fino alla derivata, la derivata 0, no, perché la funzione f, fa f, e, diciamo, se io vado a valutare quella funzione, la fi, in x con 0, fa 0, la derivata ennesima neanche, perché la derivata ennesima di f, ce l'ho, la derivata ennesima di f, ce l'ho solo nel punto x con 0, quindi non la posso fare in genere. a, sì, posso dire che, vabbè, mi serve fino a en meno 1, in realtà posso dirlo fino a en, perché, qua la derivata ennesima di f, mi serve solo nel punto x con 0, l'uguaglianza la posso scrivere anche fino a ene, ma in realtà, nella dimostrazione, mi serve solo fino a en meno 1. adesso, piano piano, perché non siamo lontani dalla meta, andate a scrivere questa, io non voglio fare nessun limite, per adesso, voglio solo andare a scrivere un certo rapporto e andarlo a manipolare, allora, per comodità, per pura comodità, prendo x a destra di x con 0, se l'x fosse a sinistra di x con 0, tutti i ragionamenti si dibattano dall'altra parte. Allora, andiamo a fare questo rapporto qui, f di x meno phi di x, 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 fratto x meno phi di x con 0, fratto x meno phi di x con 0, alla ene. phi di x con 0 è 0, lo scrivo ma è 0. Allora, questo qua, a che cosa è uguale? Allora, facciamo così, perché sennò, se io prendo f di x meno phi di x, e la chiamo si di x, cosa ottengo? ottengo che psi di x con 0 fa f di x con 0, mentre invece, mentre invece la derivata eresima di psi di x, calcolata nel punto di x con 0, fa 0 per ogni r, compreso tra 1 ed n meno 1, che è quello che abbiamo detto prima, perché sarebbe la derivata di f meno la derivata di phi. f di x meno f di x con 0, meno phi di x, questa qui è uguale a psi di x meno psi di x con 0, fratto x alla ene, x meno x con 0 alla ene. Se vi fate il cuore. f di x meno psi di x, questo qua vale psi di x, psi di x con 0 vale f di x con 0, abbiamo scoperto. Ok, allora, questo a che cosa è uguale? Per il teorema di Cauchy, sarà uguale a psi di x con 1 fratto n per psi con 1, meno x con 0 alla ene meno 1. Perché questa funzione, allora, io che cosa ho qua? Ho il rapporto incrementale della psi, sotto, prendendo questa funzione qua, chiamatela g di x, x meno x con 0 alla ene, ovviamente questa funzione di x con 0 fa 0, quindi qua è come se fosse scritto g di x meno g di x con 0, quindi, qua c'è la derivata. Per il teorema di Cauchy, il rapporto incrementale della psi sulla g è uguale alla derivata della psi sulla derivata della g in qualche punto intermettro, dove psi con 1 sta a sinistra di x, sta da questa fase, metto 3 con 0 e x. Ma questo a sua volta è uguale a psi primo di x con 1 meno psi primo di 0 fratto n volte psi 1 meno x con 0 alla ene meno 1. Adesso questa funzione qua di sopra, cioè l'incremento della psi prima, sotto, se prendete questa funzione, fate variare, immaginate psi con 1 come se fosse una variata, allora, che cosa ti succede? Che questa funzione qua, chiamatela di nuovo x per 1, immagino x per x con 0 alla ene meno 1, in x con 0, fa di nuovo 0, quindi di sotto è come se ci fosse scritto di nuovo l'incremento della funzione che sta al denominatore. Quindi, riapplicando il teorema di Cauchy, questo qua è uguale a psi secondo di psi con 2 fratto n per ene meno 1 per psi con 2 meno x con 0 elevato alla ene meno 1, dove psi con 2 è un opportuno punto compreso tra x con 1 e x con 0. Beh, è chiaro che io andando avanti in questo modo, andando avanti in questo modo, posso derivare a n meno 1 volte, perché le derivate a n meno 1, quindi se mi ci stavano di tutte le funzioni che stanno in gioco, quindi posso arrivare alla puntini puntini puntini, uguale, qua c'ho la derivata n meno 1esima della psi, calcolata in psi n meno 1, dove psi n meno 1 sarà un punto che sarà sempre più vicino a x con 0. e sotto mi viene n per n meno 1, il prodotto arrivo fino a 2, ma o arrivo fino a 2 o arrivo fino a 1, la stessa cosa, quindi mi viene n fattoriale, quindi mi rimane psi con n meno 1, meno x con 0. Adesso lo rispito. Adesso devo cancellare un paio di righe qua, e vi scrivo quello che ho fatto. Quindi, io cosa ho scoperto? ho scoperto f di x meno p di x meno x con 0 fratto x meno x con 0 alla n, se ci fate caso, f di x con 0 più phi di x è esattamente p di x meno x con 0, dove p è il polinomio che vogliamo sia quello nei tempi. questo è uguale a f di x meno f di x con 0 meno phi di x fratto x meno x con 0 alla n uguale a p di x con b di x con b di x con b fino ad arrivare alla derivata di psi n meno unesima calcolata nel punto psi alla n meno 1 psi con n meno 1 fratto n fattoriale cioè psi n meno 1 meno x con 0 ma chi è la derivata n meno unesima di psi? Questa non è altro che la derivata di f n meno 1 volte calcolata in psi n meno 1 poi dovevo fare la derivata di phi ma quando vado a fare la derivata di phi la derivata di phi n meno 1 n meno 1 volte calcolata in x cosa fa? fa la somma di solo due pezzi quindi qua h va da n meno 1 a n allora non la scrivo la somma scrivo direttamente di due pezzi quando h è uguale a n meno 1 qua mi viene la derivata n meno unesima di f in x con 0 per x meno x con 0 fratto n meno 1 fattoriale più fratto 1 fattoriale n meno n meno 1 fattoriale quindi 1 fattoriale fa 1 più adesso ci devo mettere r uguale n quindi mi viene la derivata ci devo mettere h uguale a n la derivata scusate qua non c'è perchè era n meno 1 meno r che valeva n meno 1 più la derivata ennesima di f in x con 0 per x in x con 0 lo ripeto devo prima mettere r vale n meno 1 quindi devo mettere h uguale a n meno 1 quindi derivata n meno unesima n meno 1 meno n meno 1 fa 0 fattoriale che fa 1 questo ha la 0 fa 1 quindi mi viene derivata n meno unesima di f calcolata in x con 0 quando vado a mettere h uguale a n mi viene la derivata ennesima però ci rimane una potenza x meno x con 0 adesso io cosa devo fare? devo andare a scrivere però la derivata non nel punto x ma la devo andare a scrivere il punto x n meno 1 quindi devo scrivere meno la derivata n meno unesima di f calcolata nel punto x con 0 meno la derivata ennesima di f calcolata di x con 0 per c n meno 1 meno x con 0 tutto fratto n fattoriale per c n meno 1 meno x con 0 ok? ok? uguale uguale continuo sotto 1 su n fattoriale lo metto in evidenza il qua posso scrivere la derivata n meno unesima di f f nel punto x con n meno 1 meno la derivata n meno unesima di f nel punto x con 0 fratto si con n meno 1 meno x con 0 meno la derivata ennesima di f nel punto x ok? adesso qui la strada si biforca perché noi siamo a dimostrare tutte e due le cose insieme adesso facciamo quella con il resto di piano se mandiamo x a x con 0 questo ragionamento che sto per dire si può formalizzare meglio di come lo dico adesso però se lo vado a formalizzare non capite niente va bene così che succede a tutti questi punti che stanno in mezzo? se io mando x a x con 0 x con n meno 1 che fine fa? deve tendere pure lui a x con 0 e va bene ma allora che cosa succede? questo chi è? perché ricordatevi che x con n meno 1 dipende da x quindi si muove ma quando x con n meno 1 tende a x con 0 questo chi è? è il rapporto incrementale della derivata n meno 1esima a chi tende? a questo per definizione quindi la differenza deve tendere a 0 quindi questo tende a 0 questo dimostra la formula corresto di piano perché abbiamo preso f di x abbiamo preso il polinomio abbiamo calcolato x meno 0 abbiamo fatto la differenza abbiamo diviso per x meno 0 alla n abbiamo applicato tenevati così una volta due volte tre volte quattro volte n meno 1 volte ci siamo fermati abbiamo riscritto quello che abbiamo ottenuto che è solo complicato ma è un colpo ma è questo ma questo non è altro che il limite del rapporto incrementale della derivata n meno 1esima meno la derivata n meno 1esima siccome x con n meno 1 deve tendere a x con 0 quel limite deve fare 0 questa è una costante e quindi non ci sono problemi 0 per 1 su n fattori a che è esattamente quello che dovevamo dimostrare per la formula con il resto di Beano se invece vogliamo dimostrare la formula con il resto di Lagrange noi quando arriviamo qua quando arriviamo qua abbiamo dimostrato la formula con il resto di Beano adesso se vogliamo dimostrare la formula con il resto di Lagrange dobbiamo partire da questa differenza f di x meno p di x meno 0 però stavolta non dobbiamo dividere per x meno 0 alla n ma dobbiamo dividere per x meno 0 alla n più 1 ripeto ripeto è un ragionamento del tutto analogo dopo n volte a cosa arriviamo? arriviamo alla derivata ennesima della f in x con e meno la derivata ennesima della f in x con 0 fratto n più 1 fattoriale per x con n meno x con 0 esattamente lo stesso ragionamento a questo punto applichiamo Lagrange un'altra volta stavolta n più 1 fattoriale perché partiamo da n più 1 qua il prodotto da n più 1 fino a 2 che fa n più 1 fattoriale applichiamo un'altra volta l'ultimo punto qua c'era x con 0 qua c'era x qua c'era x con 1 x con 2 x con 3 x con n l'ultimo punto lo chiamo x questo sarà uguale alla derivata n più 1 della f in x fratto questa funzione in x con diciamo se questa la prendete come variante in x con 0 vale 0 quindi ancora una volta potete applicare cosci e che cosa vi viene? la derivata di x con 0 rispetto a x fa 1 e quindi qua viene n più 1 fattoriale e basta e quindi cosa avete scoperto? che moltiplicate tutto per x con 0 alla n più 1 portate qui di x con 0 dall'altra parte e trovate la formula con il resto di Lagrange cioè trovate che f di x trovate che f di x è uguale a p di x meno x con 0 più la derivata n più 1 es calcolato su punto intermedio x fratto n più 1 fattoriale per x meno x con 0 alla n più ok? da quando voleva dimostrare però per fare questo tipo di dimostrazione mi serve di poter applicare cosci due volte in più due volte in più una volta in più in maniera analoga alla precedente perché eravamo partiti con una potenza in più e l'ultima volta invece di fare il limite applicate di nuovo il terremoto quindi perciò lo otteniamo e quindi abbiamo ottenuto questa benedetta formula di Taylor ora a delle considerazioni vediamo se abbiamo un paio di minuti sì sì abbiamo giusto giusto tre minuti allora quali sono le considerazioni adesso non abbiamo il tempo domani abbiamo esercizi quindi ci sbizzarriremo a fare ricavare le formule soprattutto formula di McClary perché dobbiamo allora la prima cosa sarà vi ricordate tutto lo specchietto delle derivate quasi tutte dobbiamo fare le formule di McClary per esempio quasi tutte dovremmo dire la forma di McClary di logaritmo non la facciamo perché non è definita di zero ma faremo quella di logaritmo di uno più x cioè praticamente sarebbe la forma di zero al logaritmo vicino a uno però preferiamo scrivere invece di scrivere x meno uno tante volte preferiamo scrivere logaritmo di uno più x questo lo vediamo domani quindi la prima cosa bisogna rifare lo specchietto di tutte le formule di zero più semplici in genere nel punto più semplice possibile delle funzioni che abbiamo elementari che abbiamo prima secondo la cosa importante della formula di zero è ricordarsela e ricordarsela non è difficile perché è una struttura ben precisa derivata che che è h fattoriale spostamento all'altra somma per h vada a zero a n poi il resto o è o piccolo di x meno zero a n oppure ha la stessa struttura soltanto che la derivata la devi fare in un punto intermedio quindi la struttura della formula non è complicata da ricordare bisogna entrare nel metterino terzo se voi pensate che io sto terreno me lo ricordi a memoria siete fuori i segni cioè nel senso che una volta che stai da fuori una volta che stai che quello sviluppo deve esistere e deve essere unico ti metti e lo scrivi lo scrivi le uniche cose che mi ricordo a memoria sono che quando devi farlo con la formula di piano coscine lo devi applicare due volte in meno quando lo devi fare con la formula di all'arrange coscine lo devi applicare due volte in meno e che devi applicare il teorema di coscine a quel punto se andate a vedere le video lezioni delle quelle passate quelle che c'erano prima può darsi che la funzione filiale che ho adottato ci avesse f di spon zero dentro oppure no cioè quello può cambiare cioè piccoli dettagli possono cambiare però alla fine il risultato del sistema stesso è chiaro? quindi non è diciamo questo è chiaramente un teorema che all'orale si chiede raramente perché diciamo non è un teorema che richieda chissà quali idee o chissà quale comprensione profonda no richiede una comprensione profonda perché è un'applicazione del teorema di coscine è lungo è un bel teorema però diciamo per fare domande per modo alto ce ne stanno di molte altre quindi questo qua si chiede magari raramente perché? perché se lo chiedo poi devo stare a un quarto d'ora che lo sboggiate o mezz'ora che lo sboggiate chiaro? quindi in quattro d'ora di domande me le faccio molto più altre diciamo molte altre di più però lo posso chiedere perché non è che poi non me lo dovete studiare quindi però il discorso è il metodo di studio cioè io ho capito questo teorema quando sono in grado di scrivere le cotesi bene e di ricavarmelo di provare a impostarlo potrò fare dei nessuno nasce perfetto per cui all'inizio si fanno degli errori poi però perché se no diciamo io se non riesco a fare questo avrò comunque problemi anche ad applicarla a prima cominciate ad applicarla bene poi vedrete che saprete anche di non farlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti